Ciao a tutti piccoli cuccioli di criminale e bentornati sul mio canale didattico Diego Ti Spiego, nella sezione della matematica. In questo video cominceremo a vedere il piano cartesiano, faremo un'introduzione su che cos'è il piano cartesiano e come si piazzano i punti sul piano. Per affrontare la lezione dovrai solo sapere come si scrivono le coordinate di un punto cartesiano, quindi roba facile. Se ancora non ti sei iscritto al canale ti ricordo di iscriverti oppure seguirmi su Instagram e mi trovi come Diego Ti Spiego, tutto attaccato. Vediamo che capisce qualcosa, va? Cominciamo con questa nuova lezione che ha come argomento il piano cartesiano. È l'inizio di una nuova playlist ed è una playlist veramente molto molto importante perché non faremo soltanto il piano cartesiano ma vedremo anche l'equazione della retta che è un argomento veramente da tenere in considerazione. Questo video sarà abbastanza breve perché rivedremo che cos'è il piano cartesiano, qual è la nomenclatura che gira intorno al piano cartesiano e soprattutto come si posiziona un punto sul piano, una cosa che dovreste aver visto alle medie che non è troppo complicata. Il piano cartesiano non è nient'altro che un'intersezione tra due rette, una retta orizzontale e una retta verticale. Chiamiamo l'intersezione O che è la nostra origine. La retta orizzontale la chiamiamo retta delle X, ovvero delle ascisse. Mi raccomando ragazzi non vi confondete con la retta delle Y che invece si chiamano ordinate. Ancora oggi se vi chiedo qual è la scissa? Voi mi rispondete la Y e io vi vorrei tanto menare, ma non posso. Cosa fa il nostro piano cartesiano? Ci divide il piano, che teoricamente è infinito, in quattro quadranti. Chiameremo il primo in alto a destra primo quadrante. Non fate poi che andate sotto. Il secondo quadrante è questo. Questo è il terzo quadrante e questo è il quarto quadrante. Ora quello che faccio è andare a suddividere la retta in tanti punti, no? Che hanno proprio i valori 1, 2, 3, 4 e così via. Cosa succede? Quando vado a destra 1, 2, 3, 4, 5 e così via per quanto riguarda le X. Quando vado in alto avrò la stessa cosa per quanto riguarda le Y, quindi 1, 2, 3 e così via. Quando vado a sinistra avrò dei valori negativi, quindi meno 1, meno 2, meno 3 e così via meno 4. E anche quando vado sotto avrò dei valori negativi per la Y, quindi meno 1, meno 2, meno 3 e meno 4. Cosa vuol dire piazzare un punto sul piano cartesiano? Supponiamo di voler mettere il punto a 1, 3. Questo è un modo di scrivere le coordinate di un punto. Che cosa sono le coordinate? Sono questi due numeri che sono suddivisi da di loro da un punto e virgola. Mi raccomando, non mettete la virgola perché sennò è 1,3. Il primo numero è sempre la X, quindi la scissa. Il secondo numero è sempre la Y. Cosa dovete fare voi adesso per andare a piazzare questo punto? Dovete giocare a battaglia navale. Quindi dovete prendere 1 sulle X, che sarà questo valore qua, vedete, e poi andare verso l'alto della quantità 3, perché ho scritto più 3. Quindi 1, 2 e 3. Ecco qua il nostro punto A di coordinate. 1 per quanto riguarda le X e 3 per quanto riguarda le Y. Supponiamo adesso di voler piazzare il punto meno 2, meno 2. Quindi cosa faccio? Vado meno 2 sulle X e poi stavolta non devo andare in alto di 2, ma devo scendere di 2. Quindi meno 1, meno 2. Ecco qui il nostro bellissimo punto B. Ora, ragazzi, una delle cose che mi sbagliate molto spesso è quando uno dei due punti ha come coordinata 0. Quindi supponiamo, per esempio, di andare a prendere il punto 5, 0. Il punto 5, 0 è semplicemente un punto che ha come ordinata, quindi la Y, 0. Quindi cosa vuol dire? Che io devo contare i 5 per le X e poi non devo né salire né scendere. Quindi mi fermo esattamente lì. E quindi questo è il punto C. La stessa cosa varrà per il punto D, se per esempio vado a prendere di 0, meno 3. Come si fa a prendere il punto 0, meno 3? È conto 0 sulle X, quindi rimango esattamente dove sono nell'origine, e poi vado meno 3 sotto. Quindi il punto D, 0, meno 3, è esattamente questo qui. Per finire, ragazzi, ricordatevi ovviamente che l'origine ha coordinate 0, 0. Fin qui niente di complicato, ragazzi, vedete? È facilissimo andare a mettere i punti sul piano cartesiano, no? Se almeno una volta nella vita avete giocato a battaglia navale non avrete nessun problema. Tentiamo però di risolvere adesso un esercizio che recita questo. Trovare i valori di K affinché il punto A, 2K, meno K più 1 appartenga al secondo quadrante. Ora che cosa notiamo subito? Che il punto A non ha delle coordinate numeriche, ma ha delle coordinate parametriche. Cosa vuol dire questo? Che la X e la Y non sono dei numeri, ma dipendono dal valore di K che io vado a scegliere lì. E come lo scelgo questo valore di K? Eh, lo devo scegliere in base alla richiesta. In questo caso lo devo scegliere in modo tale che appartenga al secondo quadrante. Quindi già mi devo ricordare qual è il secondo quadrante. Mi raccomando, primo, secondo, terzo e quarto quadrante. Ora, quali sono le caratteristiche del secondo quadrante dal punto di vista delle coordinate? Vedete, per quanto riguarda le X, che sono queste qua, loro sono negative, quindi sono minori di zero. Per quanto riguarda le Y, che sono queste qua, loro sono positive, quindi sono maggiori di zero. Quindi siete d'accordo che affinché un punto appartenga a quel quadrante deve avere queste caratteristiche, cioè deve avere la X negativa e la Y positiva. Come si risolve quindi questo esercizio? Devo dire esattamente questa cosa, cioè che cosa devo dire? Che la X del punto A deve essere minore di zero, cioè 2K deve essere minore di zero, e che la Y del punto A invece deve essere positiva, cioè meno K più 1 deve essere positivo. Ora però, ragazzi, come sono legate tra di loro queste cose? Sono legate da un sistema. E perché questo? Perché io voglio che contemporaneamente la X sia negativa e la Y sia positiva. Non mi basta che una sola delle due sia verificata, ma devono essere verificate tutte e due nello stesso momento per poter appartenere al secondo quadrante. Quindi devo metterla al sistema. La prima disequazione mi darà quindi K minore di zero, perché divido per due. La seconda mi darà invece K minore di uno, perché porto uno di là diventa meno uno, ma poi cambio disegno perché c'è meno K e devo girare anche il verso della disequazione. E questa non è nient'altro che un sistema di disequazioni di primo grado. Quindi faccio il grafico del sistema. Quindi 0 e 1, 0 va da questa parte e 1 pure. Quindi sostanzialmente affinché quel punto appartenga al secondo quadrante deve verificarsi che K è minore di zero. Vogliamo provare a vedere se è così? E proviamo a scegliere un valore di K minore di zero. Per esempio, se io scelgo K uguale meno 1, come mi viene il punto A? E mi viene 2 per meno 1, che fa meno 2, e poi meno K, che quindi diventa più 1 più 1, è 2. E vedete che la X è negativa e la Y è positiva, quindi quel punto là appartiene proprio al secondo quadrante. Bene, ragazzi, con questa lezione abbiamo concluso. Nel prossimo video vedremo che cosa, come si calcola la distanza tra due punti e come si calcola il punto medio. Grazie per avermi seguito anche oggi, alla prossima! Se pensi che i contenuti del mio canale possano farti uscire dalle paruti della tristezza, iscriviti. Oppure condividi se hai degli amici che sono desiderosi di una sufficienza. Lascia invece un commento se vuoi farmi trattare degli argomenti o vuoi suggerirmi degli esercizi da risolvere. Grazie, alla prossima lezione, da Diego ti spiego.